Ciao a tutti ragazzi, qui è DarkShulker e oggi siamo di nuovo insieme in questo nuovo video per l'introduzione alla mia nuova farm di alberi che come vedete utilizza un ghast per permetterci di ottenere legno in modo completamente automatico. In questo video ragazzi vi illustrerò le caratteristiche fondamentali di questa farm, ovviamente spiegandovi in che modo è possibile utilizzarla oltre ovviamente a portarvi una spiegazione sintetica del suo funzionamento. Oltre a questo ragazzi parleremo anche degli altri design del farm di legno che potevate conoscere finora mostrandovi tutti i vari aspetti positivi e negativi di ciascuno di questi design in modo che ognuno di voi possa fare la scelta migliore nel caso abbia bisogno di costruire una farm di legno. Per utilizzare la farm tutto quello che dobbiamo fare è inserire in questa chest il nostro bone meal che intendiamo utilizzare entrare all'interno della farm e passare alla game mode 0, ovviamente alla game mode survival. A questo punto ragazzi non ci resta che riempire il nostro inventario in questo modo, come vedete posizioniamo qui un po' di sapling e le mele in questa posizione e posizionarci sulla nostra pressure plate che come vedete si trova nell'esatta linea visiva del nostro ghast che inizierà così a spararci. A questo punto ragazzi non ci resta che puntare verso questo blocco di legno oppure direttamente verso il blocco di terra vedere premuto il nostro tasto destro e come vedete ragazzi faremo crescere alberi in modo completamente illimitato. Ovviamente ragazzi se noi vogliamo iniziare una sessione di AFK e ci troviamo nella versione 1.12 o precedente possiamo utilizzare il trucchetto di F11 per mantenere costantemente attivato il tasto destro e così piantare infinitamente i nostri sapling. Mentre ragazzi se invece ci troviamo già nella versione 1.13 dovremo invece andare nelle opzioni, andare sui controlli e andare a cambiare il nostro tasto destro con ad esempio la barra spaziatrice e ad esempio inserire un peso o un libro o qualcosa sulla nostra barra spaziatrice in modo da permetterci di ottenere in modo illimitato il legno di questa farm. E come vedete ragazzi quando abbiamo finito la nostra sessione di AFK potremo ritirare il nostro legno all'interno delle apposite chest. Come avete visto poco fa il funzionamento di questa farm è possibile proprio grazie alle esplosioni delle palle di fuoco lanciate da questo ghast che come vedete ragazzi esplodono esattamente all'interno di questa camera delle esplosioni esattamente nella posizione in cui si troverà il legno che verrà quindi droppato e portato nelle rispettive chest. Ovviamente ragazzi la palla di fuoco del ghast viene leggermente deviata quel tanto che basta verso il basso grazie all'utilizzo di questa acqua che ovviamente dato che fluisce verso il basso riuscirà a muovere di un po' la palla di fuoco che altrimenti andrebbe a colpire il giocatore. Ovviamente ragazzi portare un ghast in questa posizione non è così difficile come potreste pensare infatti tra poco vi farò vedere un semplice metodo per ottenere un ghast nell'overworld ma oltre a questo ragazzi un'altra caratteristica fondamentale di questa farm è che come vedete ho cercato di non utilizzare nemmeno un observer non perché gli observer mi stiano particolarmente antipatici ma perché ragazzi so che probabilmente molti di voi giocano magari ancora in una versione non nella ultima versione di minecraft ma magari nella versione 1.9 o 1.10 in cui ancora gli observer non erano presenti e ovviamente ho cercato di costruire una farm il più possibile stabile anche nelle future versioni di minecraft utilizzando la minore quantità di componenti della redstone possibile. Il modo più semplice per catturare un ghast e portarlo nell'overworld è probabilmente quello di utilizzare questo catturatore di ghast realizzato da Razeworks di cui trovate il link in descrizione. Come vedete ragazzi infatti questo catturatore è veramente molto semplice utilizza pochissima redstone e funziona nel seguente modo infatti come vedete quando in questa piattaforma spawneranno sia pigman che ghast i pigman andranno a dirigersi verso le nostre bottole e si butteranno di sotto e lo faranno perché cercheranno di raggiungere questi blocchi esterni a causa del loro movimento random che avviene ogni tanto. Ma oltre a questo ragazzi ovviamente andranno anche a spawnare dei ghast ogni tanto che andranno ad essere spintonati dai pigman verso i muri esterni in breve tempo e ovviamente ragazzi una volta che verranno spinti verso i muri esterni potranno essere recuperati da questo minecart che fa tutto il giro della farm ogni un certo tempo e come vedete ragazzi il minecart andrà a portare il ghast fino alla nostra destinazione in cui potrà essere rinominato tramite l'utilizzo di una name tag e portarlo così all'interno della dimensione dell'overworld. Per quanto riguarda l'efficienza di questa farm come potete vedere in questa chest troviamo i risultati del mio ultimo test di un'ora. Come vedete andremo a produrre più o meno la quantità di legno che vedete in questa zona che sono circa 2000 blocchi di legno oltre a quasi 3 stack di sapling e all'incirca 1 stack di mele oltre ovviamente ad andare a consumare la quantità che potete vedere in questo momento di bone meal. Se confrontiamo questi risultati con quelli ottenuti dalle migliori farm di legno universali che troviamo su youtube come ad esempio i design di Steepox che trovate in descrizione scopriamo che quest'ultima farm è circa 3 volte più efficiente rispetto al mio design. Tuttavia ragazzi questa farm come vedete utilizza della TNT per rompere il legno e ovviamente ragazzi nonostante vengano droppati più di 200 blocchi di legno con una singola TNT ovviamente ottenere la TNT necessaria potrebbe risultare un problema se non avete a disposizione una farm di Creeper che la possa mantenere. Allo stesso modo nei design che utilizzano il Weeder per rompere il legno sarà probabilmente necessario trovare una conformazione di Bedrock adatta nel Nether oltre a probabilmente dover rimuovere un bel po' della Bedrock circostante per poter costruire la farm piuttosto agevolmente. Oltre a questo ragazzi ovviamente sarà necessario avere i materiali necessari per spawnare il Weeder stesso quindi le tre teste di Weeder che potrebbero essere non particolarmente facili da ottenere per i giocatori che ancora non dispongono di molte risorse. Ritornando quindi al mio design, l'obiettivo principale che mi sono dato realizzando questa farm era quello di realizzare appunto una farm il più semplice possibile e che soprattutto non utilizzasse nessuna risorsa extra oltre al indispensabile Bone Meal. Oltre a questo ragazzi come vedete si tratta anche di una farm al 100% sicura quindi non utilizza mob pericolosi come nel caso del Weeder e proprio per questo potrà essere costruita in qualsiasi luogo di Minecraft compreso vicino alla nostra base. Tutto questo ragazzi ovviamente ci provoca un calo dell'efficienza ma secondo me questi 2000 blocchi di legno all'ora possono essere comunque un'efficienza più che sufficiente per permetterci di ottenere il legno necessario ogni volta che ne abbiamo bisogno. Ovviamente quindi se volete costruire una farm di legno la scelta del design dipenderà soprattutto dalla vostra disponibilità di risorse. Infatti ragazzi se disponete di risorse sufficienti e per voi la TNT non è un grosso problema non vi resta che costruire probabilmente la farm di Steepox che è decisamente molto più efficiente di questa e soprattutto funziona per tutti i tipi di albero possibili di dimensione 1x1. e mentre ragazzi se invece non avete molte risorse o semplicemente volete costruire una farm più semplice che non richieda risorse extra probabilmente questa farm di legno con gust sarà proprio quella che farà al caso vostro e sarà proprio per questo ragazzi che probabilmente sarà una delle primissime farm che andremo a costruire nel server della Redcraft 2. Passiamo adesso alla spiegazione sintetica del funzionamento di questa farm e come vedete sarà particolarmente agevolata dal fatto che ho inserito tutti i vari circuiti che ne permettono il funzionamento su dei blocchi di lana di colore diverso a seconda della funzione di ciascun circuito che dovrebbero permettervi anche di seguirmi più facilmente durante la spiegazione stessa. E ok, come vedete ho impostato il mio secondo account all'interno della farm che come vedete ci permetterà di far funzionare la farm mentre farò la spiegazione di tutti i vari circuiti in modo da poterne vedere in diretta il funzionamento. Dunque ragazzi direi che proprio che possiamo partire con il circuito rosa circuito magenta che è decisamente il più semplice che come vedete è composto da un semplice clock di comparator molto veloce che andrà ad attivare sia il dispenser con il bone meal attraverso questi hopper e questi scalini che permettono il passaggio della redstone e andrà quindi a distribuire il bone meal all'albero che andrà ad essere, verrà fatto crescere ma oltre a questo andrà anche a raggiungere il dispenser che riceverà tutti i sapling e le mele e in questo modo ovviamente tutti i vari sapling e le mele verranno dati verso il giocatore grazie a questo piccolo canale d'acqua. Il circuito verde è fondamentalmente l'interruttore dell'intera farm come vedete parte dalla zona in cui si trova la pressure plate sopra la quale starà il giocatore e come vedete raggiunge la cabina con il ghast permettendoci così di chiuderla quando non stiamo utilizzando la farm così come anche il nostro sistema di conveyor con questi slime block che vi spiegherò tra poco in modo da evitare che facciano rumore mentre non stiamo utilizzando la farm in realtà non è un circuito del tutto indispensabile se non per questa lanterna di redstone che si accende quando non utilizziamo la farm e che ovviamente ci impedisce di ritrovare appunto dei mob ostili mentre appunto non utilizziamo la farm e appunto decidiamo di invece utilizzarla. Passiamo adesso al circuito rosso che è probabilmente il circuito più importante di tutta la farm proprio perché si attiva ogni volta che un albero cresce. Questo circuito rosso si collega oltre che al circuito blu e al circuito azzurro va ovviamente a muovere i pistoni in questo modo come vedete questo double piston extender questo estenditore doppio va inizialmente a muovere i pistoni apiccicosi dietro e successivamente quelli davanti in modo da spostare gli alberi in avanti. Ovviamente questo è possibile grazie al passaggio della redstone anche in punti abbastanza nascosti come ad esempio lì sotto al minecart con hopper è presente della redstone dust e in questo modo ovviamente è possibile è possibile appunto ottenere questo effetto. Al circuito rosso come vedete è direttamente collegato anche il circuito azzurro che come vedete va a raggiungere tutti i pistoni laterali che vanno a rompere tutte le varie foglie che si generano attorno all'albero per ovviamente permetterci di ottenere un sapling ogni volta che andiamo a far crescere un albero in modo da continuare a farne crescere altri. Direi che non c'è molto da spiegare riguardo a questo circuito semplicemente si va ad azionare tutti i pistoni e alcuni vengono azionati un po' prima perché sono direttamente collegati all'attivazione del double piston extender. Il circuito blu è invece il circuito di redstone che ci permette di rallentare la farm in modo da dare al gust abbastanza tempo per rompere il legno. Come vedete è composto da due pulse extender due estenditori di segnale con questi comparator in questo modo ragazzi otteniamo il tempo necessario per disattivare il clock che come vedete resta perennemente attivo e quindi perde la sua funzionalità e in questo modo diamo abbastanza tempo al gust per appunto rompere il legno che andiamo a generare appunto con la farm stessa. La rilevazione della crescita degli alberi avviene tramite la quasi connettività infatti ragazzi come vedete qui abbiamo la zona della farm che si occupa di capire quando un albero è cresciuto e come vedete qui abbiamo il dispenser che normalmente contiene il bone meal e quando farà crescere il sapling qui andrà a crearsi un blocco di legno che andrà a potenziare questo pistone che nonostante non sembri attivo in realtà lo è infatti ci basta dare un semplice update ad esempio con un accendino e questo andrà ad attivarsi. L'update diciamo che noi in questo momento abbiamo dato con l'accendino viene in realtà dato alla farm grazie al clock sottostante che dà continuamente update dato che appunto la redstone di questo clock viene accesa e spenta di continuo. In questo modo ragazzi ovviamente è possibile rendersi conto di quando un albero è cresciuto proprio grazie a questo particolare metodo. Vediamo adesso gli ultimi due circuiti come vedete il circuito viola è composto da un semplice clock di repeater che permette il funzionamento di questa conveyor belt di slime block. Come vedete ragazzi si tratta di un metodo per trasformare una linea di blocchi verticale in una linea di blocchi orizzontale. Non si tratta di un metodo particolarmente rapido per trasformarla ma dato che in questa farm la velocità non è tutto anzi non è particolarmente importante dato che il gas richiede un certo tempo per rompere il legno direi che è decisamente la soluzione più adeguata e anche una delle più semplici per appunto trasformare una linea di blocchi verticale in una linea di blocchi orizzontale che è proprio quello che ci serve per poi spedirla verso la nostra camera delle esplosioni. E per ultimo il circuito giallo ci permette di far ruotare due volte la nostra fila di blocchi di legno in modo da appunto dirigerla verso la camera delle esplosioni. Come vedete si tratta di due circuiti separati in questo caso abbiamo un semplice una semplice torcia di redstone che appunto va a riconoscere quando è presente un blocco di legno sotto e in questo modo va ad attivare il pistone soprastante che andrà appunto a spingere a spingere i blocchi verso il secondo giro. Il secondo giro infatti come vedete è leggermente diverso si tratta infatti di un clock a due tick che ci permette di attivare più volte il pistone nel caso in cui il gas stia impiegando un po' più tempo del solito per rompere il legno e quindi ci sia bisogno di più di un impulso per appunto portare il legno all'interno della camera delle esplosioni. E con questo direi che abbiamo concluso la spiegazione del funzionamento di questa farm e prima di concludere il video volevo diciamo chiedervi se nei commenti potete dirmi un po' che cosa ne pensate riguardo appunto a questa farm se la considerate piuttosto semplice da costruire se quindi ho centrato il mio obiettivo di cercare di costruire una farm di legno il più semplice possibile quindi realizzabile da tutti se in generale se la costruireste nel vostro mondo e se appunto secondo voi ne vale la pena di costruire appunto una farm comunque relativamente complicata per ottenere circa 2000 blocchi di legno all'ora ovviamente ragazzi anche in base alle risposte che mi darete potrò pensare se farvi un tutorial blocco per blocco sulla costruzione di questa farm direi quindi che questo video può concludersi qui come sempre trovate il download di questa farm in descrizione e niente come al solito vi ricordo di lasciare un bel like un bel commento di condividere il video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e niente ragazzi da Dark Shulker è tutto noi ci rivediamo nel prossimo video e di iscrivervi al canale e di iscrivervi al canale